Si respira un clima di incertezza agli stati generali del Lanci Veneto che ha raccolto a Vicenza i sindaci dai vari territori della regione. Tema del giorno il PNRR, le opere prioritarie per i cittadini da finanziare e realizzare, tema su cui grava la crisi di governo. Il tema della giornata è naturalmente il PNRR e le difficoltà che i sindaci incontrano nella gestione di questa partita importante per i nostri territori. Quindi difficoltà che aumentano naturalmente con un governo instabile che è in crisi, che rischia di cambiare o di cadere e quindi l'auspicio che prevalga il senso di responsabilità che chiediamo anche da amministratori per una guida sicura perché chiaramente gli amministratori non sono tutti strutturati nei loro comuni, stiamo parlando di comuni anche piccoli. I bandi che escono, i sindaci veneti li affrontano e partecipano, molte volte sono stati anche formalmente portati a casa delle risorse, basti pensare per esempio alla grande battaglia sulla rigenerazione urbana, però poi le tempistiche che vengono imposte sono davvero molto serrate e con il caro aumento e con le difficoltà delle imprese oggi a reperire le materie prime è un tema che ci preoccupa molto, lo vogliamo però affrontare da squadra. L'SOS che arriva dai primi cittadini è unanime, manca un interlocutore stabile il concetto per le sfide che gli amministratori devono gestire. Le priorità in questo momento sono quelle di dare una risposta da amministratori per quanto è nostra possibilità, naturalmente neanche nei limiti delle nostre competenze, delle nostre capacità economiche, è una crisi che sta determinando un aumento della povertà, abbiamo gli sfratti esecutivi in corso, abbiamo persone che ospitiamo nelle strutture perché non hanno una casa, abbiamo le bollette che aumentano, stiamo dando fondi aggiuntivi per poter dare una risposta appunto a chi non riesce a arrivare a fine mese perché non riesce a pagare la bolletta. Queste sono le difficoltà che affrontiamo tutti i giorni. In questo momento sarebbe importante dar continuità nel senso che ci sono delle sfide che stiamo giocando oggi, banalmente i bandi del PNRR, i ristori che abbiamo chiesto per quanto riguarda la maggiore esposizione da parte dei comuni, il tema degli organici, sono temi che noi abbiamo chiesto a questo governo, eravamo in attesa di alcune risposte e rischiamo di vedere tutto congelato.